amici di bv sportivo benvenuti alla nuova settimana con le notizie del mondo dello sport il commissario tecnico del rafting azzurro paolo benciolini e coach of the year 2021 l'italia del rafting mette a segno un altro importante successo in campo internazionale stavolta però non sono le rapide di qualche fiume di quinto grado a regalare ai nostri colori l'ennesimo successo a consigliare la vittoria paolo benciolini commissario tecnico dell'italia protagonista ai mondiali dello scorso anno in francia e il pianeta rafting ha inteso a 360 gradi questo è il commento di paolo benciolini una volta ricevuto il premio è un grande onore ricevere questo premio è un esempio per tutti gli atleti poter migliorare e ottenere il massimo risultato ringrazio tutti quelli che mi hanno votato ora continuiamo così e vediamoci presto in fiume take mondo settimo world take mondo presidents cup europe per il parata che mondo antonino bossolo conquista l'argento durante la presidents cup 2022 bronzo invece per denis baretta nella categoria 63 kg senior ranking olimpico di classe g2 e simone alessio vince loro e vola sul gradino più in alto del podio passiamo allo judo gran slam a tel aviv prima giornata di gran slam a tel aviv 303 atleti da 34 nazioni l'italia registra l'argento di francesca milani ed il bronzo di odette giuffrida nella seconda giornata giovanni esposito nei 63 73 kg e nadia simeoli nei 63 ultima giornata di alice bellandi ha conquistato la medaglia di bronzo categoria dei 78 kg e georgia sanghelin che ora nella stessa categoria ha meritato un quinto posto apprezzabilissimo european cadet gop a fuggirola in gara 229 atleti di 15 nazioni con l'italia rappresentata da sei atleti che hanno ottenuto due medaglie d'argento con alessandra rocco nei 48 chili e ginevra revelli nei 52 chili judo katà il grand prix di katà a leini piemonte dove si è disputata la prima tappa del circuito nazionale di katà è partito dal palasport maggiore di leini il circuito nazionale di katà e oltre a registrare la partecipazione di oltre 30 coppie alla manifestazione dedicata alla memoria del maestro shui su girama hanno preso parte sia i vertici della commissione nazionale katà monica piredda e cesare amorosi anche andrea regis consigliere federale che a torino e dintorni gioca in casa karate mangia capra d'oro semeraro d'argento e maresca di bronzo al fugiara la giornata di finali della premier league di fugiara con cinque finali in tutto e tre medaglie conquistate un oro un argento e un bronzo la più bella e la più pregiata e di alessandra mangia capra che ha vinto la sua prima medaglia nel circuito karate 1 premier league silvia semeraro si è invece messa l'argento al collo luca maresca infine ha combattuto la finale la finalina per il bronzo questo weekend consigliamo speciale fujitsu fujicam sabato 26 febbraio 2022 dalle ore 11 vi aspettiamo per la seconda puntata di speciale jiu jitsu fujicam ci potete seguire qui sulla nostra pagina facebook jiu jitsu fujicam e formulare domande ospiti della puntata presidente della commissione tecnica nazionale jiu jitsu fujicam antonio amorosi e tutta la commissione tecnica nazionale vi aspettiamo lotta reking serie yasar dogu in scena a istanbul da oggi a domenica 27 febbraio molti gli atleti partecipanti provenienti da tutto il mondo tra i quali alcuni grandi protagonisti delle olimpiadi di tokyo e del mondiale di osolo giudo domenica sabato e domenica 19 azzurri a varsavia per l'open di polonia l'ijf world raking event metterà a confronto 485 atleti di 34 paesi karate ricordiamo il prossimo appuntamento regionale secondo stage monte ora fesic liguria domenica 27 febbraio inizio ore 9 a lavagna presso il palazzetto dello sport del parco tigullio taekwondo campionata italiana cadetti rds stadium dal 26 al 27 febbraio 2022 a genova durante i campionati italiana cadetti scenderanno in campo i migliori atleti del freestyle nazionale l'entrenamento ezia con a sauro saugli dal primo al 4 e dal 7 all 11 marzo ore 10 12 giardino della catena parco delle cascine a firenze per questa settimana è tutto appuntamento alla prossima con vivi sportivo a